Musica Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Abbiamo il piacere di essere nuovamente a San Vito di Cadore dove incontriamo il sindaco Emanuele Caruzzo che saluto e ringrazio della disponibilità. Grazie sindaco per il tempo che ci dedica, ci troviamo oggi nel suo ufficio per parlare di attività, di iniziative che riguardano la sua collettività, i cittadini di San Vito che adesso il paese è proprio nell'exploat della stagione invernale con le settimane bianche anche. Certo abbiamo passato 15 giorni di altissima stagione con un'affluenza diciamo eccezionale adesso siamo calmati un attimo ma ci prepariamo alla seconda puntata diciamo nel mese di febbraio quindi diciamo che il lavoro non è mancato ecco. Ecco e possiamo dire anche sono tornati gli stranieri oppure no? Com'è insomma la presenza? Sì diciamo che gli stranieri sono tornati per fortuna gli stranieri scelgono anche oltre al Natale e il Capodanno anche altri periodi quindi insomma c'è un certo equilibrio che serve per continuare e prolungare la stagione. Ecco il turismo comunque per voi è l'aspetto principale per l'economia del territorio? Certo è fondamentale anche perché insomma senza il turismo anche le nostre valli fatticherebbero parecchio insomma ecco. Senta possiamo dire che il suo comune si conferma anche una realtà da riuscire ad attrarre anche le grandi produzioni cinematografiche? Sì diciamo che già nel 2021-2021 con Un passo dal cielo che è stata la prima fiction che si è presentata dopodiché altre diciamo produzioni hanno scelto di venire a San Vito per girare dei cinepanettoni o dei film insomma ecco. E avete avuto comunque la conferma di una nuova produzione? Abbiamo avuto una ulteriore conferma il sequel di improvvisamente Natale che adesso nel mese di marzo ripartirà quindi avremo nuovamente un certo numero di maestranze che opereranno per la produzione e un certo numero di attori importanti. E questo sicuramente contribuisce comunque a quell'attrattività dal punto di vista turistico di cui parlavamo prima? Certo contribuisce oltretutto probabilmente a sorpresa ci sarà un terzo tra il mese di aprile e maggio con attori importanti dicono americani quindi insomma credo che sarà un bel periodo lungo ecco. E dal punto di vista numerico già avevamo in passato affrontato questo argomento sindaco però ci ricorda un pochino anche voi soffrite della problematica dello spopolamento oppure no? Quali sono i numeri? No diciamo che per il momento già dal 2021-22 e adesso i numeri sono sempre in crescita. È una cosa un po' strana però insomma non abbiamo dei cali ecco. Questo è già una bella cosa perché visto la situazione dello spopolamento della montagna insomma i dati sono positivi. Un territorio che va in controtendenza. Va in controtendenza. Tante volte non si capisce il perché però insomma sicuramente la qualità della vita. Ecco e quanti sono gli abitanti in genere? Quanti invece considerando magari i momenti di massima attrattività turistica? Beh diciamo che noi come residenti siamo circa quasi 2.000, 1.900 e qualcosa e arriviamo a un'affluenza massima di 10.000, 15.000 nel culmine della stagione. Quindi insomma numeri importanti. Senta sindaco tra le location sicuramente più accattivanti i vostri punte di diamante sicuramente l'area del lago di Musigo che sarà interessata ad un progetto importante di riqualificazione. Certo, grazie ai fondi di confine con un finanziamento importante di un milione e mezzo di euro siamo riusciti e stiamo lavorando per la progettazione a fare un intervento proprio di riqualificazione di tutta l'area del lago. Qual è il progetto? Il progetto è di sistemazione ambientale più di riqualificare il lago dal punto di vista idraulico e tutta l'area dove si tiene il chiosco, i campi da tennis, il prato per le famiglie dove vogliono chiaramente prendere un po' di sole, un po' d'aria e quindi è un progetto un po' ampio e ambizioso che vedremo adesso per la primavera speriamo di cominciare a vedere qualcosa di concreto. Ma poi i fondi di confine hanno interessato altre progettualità. Penso per esempio per far fronte comunque ad una tematica che riguarda da vicino anche la provincia di Belluno, ossia la carenza delle strutture abitative, di alloggi. pensiamo magari per un giovane che vuole venire qui, magari dall'estero, ritornare per un periodo oppure chi viene da fuori e vuole trovare un lavoro e quindi ha bisogno anche di un posto dove vivere. Quindi con i fondi di confine state lavorando per far fronte alla problematica della abitativa? Sì, oltretutto noi abbiamo presentato un progetto sempre per ultimare un edificio di proprietà del comune proprio adibendolo a degli alloggi principalmente perché riscontriamo che c'è molta carenza e quindi potrebbero servire per il postino, per l'insegnante, per chiunque venga a lavorare e se non abbiamo quelli purtroppo i servizi vengono a mancare. Quindi stiamo lavorando per ultimarli, insomma c'è anche lì un importo importante, c'è un po' di lavoro da fare e speriamo di correre. Ecco, anche in questo caso ci può dare qualche riferimento ulteriore, cioè nel senso un investimento che ammonta quanto per esempio e quali tempistiche secondo le vostre idee? Diciamo che io vorrei essere ottimista, insomma l'importo è sempre di un milione e mezzo di euro, diciamo che le tempistiche un paio d'anni perché insomma correndo e che tutto vada liscio come tutte le cose, insomma due anni ci vogliono tutti. Anche perché ovviamente sappiamo le criticità a livello geopolitico, insomma gli accadimenti che ci sono. Magari gli appalti, insomma sono importi che bisogna sempre stare molto attenti e quindi insomma per fare le cose fatte bene come devono essere fatte. Come amministrazione, come comune, come state facendo fronte anche alla criticità attuale inerente per esempio all'inflazione? Lì è un problema un po' sinceramente stiamo lavorando, è una domanda che mi spiazza. perché non saprei proprio cosa rispondergli. È un momento difficile comunque per cittadini, imprese, enti pubblici, la crisi energetica, insomma sono tanti fattori da tenere in considerazione. Diciamo che in questo momento non abbiamo dei grandi problemi, però dobbiamo tenerli un po' sotto controllo perché appunto proprio le spese energetiche quelle sono aumentate e potrebbero fare proprio la differenza. Questo è andato una criticità ovviamente sappiamo per tutti. Senta Sindaco, il PNRR anche questo è una partita importante per il Paese, il Sistema Italia. Voi come state in qualche modo approcciando questa sfida? Noi abbiamo presentato dei progetti sempre sul PNRR per la sistemazione sismica e l'efficientamento energetico delle scuole elementari perché comunque avevano veramente bisogno di un intervento importante di un milione di euro e siamo anche lì in graduatoria. altrettanto abbiamo fatto per la palestra che l'importo si aggira su circa 300 mila euro. Sono due, perché secondo noi riteniamo che le scuole siano, è molto importante insomma avere le scuole all'interno del proprio Paese, quindi diciamo ci siamo concentrati lì prima di tutto. Quindi giovani e famiglie. Giovani e famiglie, certo. Una parte significativa sicuramente per la vita di una comunità è anche quella rappresentata dal volontariato. Qui a San Vito che peso ricopre? È un peso importante soprattutto anche principalmente come organi di protezione civile, che abbiamo, non dimentichiamo i vigili del fuoco volontari, abbiamo il soccorso alpino che quindi è fondamentale e altrettanto abbiamo una squadra di protezione civile dove adesso gli stiamo, diciamo abbiamo cominciato a dargli una sede che grazie all'intervento dei bandi regionali andremo a ristrutturare e quindi insomma avremo una piccola perla anche lì, quindi insomma che mi fa molto piacere di vedere sistemare anche gli edifici stessi, quindi insomma gli daremo questa sede che avremo anche modo dopo di inaugurare sicuramente. Anche in questo caso c'è un'attrazione da parte dei giovani verso questo mondo, riscontra un interesse dei ragazzi e delle ragazze? Sì, diciamo che dopo ognuno sceglie la propria strada, però insomma si vede che c'è anche c'è questo interesse anche per il proprio paese, perché insomma siamo tutti volontari, quindi alla fine vedere che c'è un po' di interesse, dopo ognuno sceglie la divisa che vuole, però insomma è molto importante. Senta, voi siete molto vicini anche a Cortina, sono più o meno 15 minuti di strada se non sbaglio, ecco, e la grande partita, il grande evento olimpico è sempre più vicino, diciamo così. Cosa rappresenta infatti anche per voi? Qual è il percorso che vi sta comunque coinvolgendo verso il grande evento? Beh, noi siamo un comune confinante col comune di Cortina, quindi insomma abbiamo degli ottimi rapporti di vicinato con le varie amministrazioni, quindi insomma anche l'altro giorno abbiamo avuto un incontro, quindi insomma collaboriamo e cerchiamo di fare proprio squadra e sinergia in tutta la valle, tanto più che il comune di Cortina ha chiesto di rientrare in Unione Montana e noi ben volentieri accettiamo questo passaggio, insomma ecco, però quindi collaboriamo e su tutti i fronti. Ecco, sicuramente insomma una grande ricaduta per l'intera provincia dolomini. Certo, secondo me non solo per la provincia, ma insomma un po' per tutti, anche perché ci sarà una ricaduta economica non indifferente, insomma, quindi c'è tanto lavoro da fare e bisogna correre. Uniti in questo senso. Tra l'altro ovviamente un tema d'eccezione sarà quello dedicato al mondo dell'inclusività, per esempio sappiamo anche gli alberghi si stanno adoperando e non poco, voi ovviamente siete una zona a forte vocazione turistica, quindi anche in questo caso le vostre strutture saranno coinvolte. Certo, anche le nostre, anche perché anche noi abbiamo diversi alberghi, diverse strutture anche ecclesiastiche, quindi che possono essere utili e speriamo che tutti fassano la loro parte. Bene, allora Sindaco abbiamo fatto una veloce panoramica sulle tante attività che riguardano il territorio di San Vito, come sempre io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e naturalmente ci ritroveremo ancora prossimamente per continuare su queste riflessioni. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie.